A soli sette minuti dal centro di San Gimignano, il casolare di Remignoli è immerso in uno scenario unico di dolci colline ricoperte di olivi e di vigne, lungo un'antica diramazione della storica via franchigena. Il casale, finemente ristrutturato rispettando le sue caratteristiche originali, conserva travature in legno, pavimento incotto e mobili toscani tipici. Questo bed and breakfast vi permetterà di raggiungere facilmente le mete culturali e artistiche più ambite e varie, zone di interesse commerciale e industriale, scegliendo però il relax della campagna toscana. Le camere, accoglienti e curate in ogni dettaglio, sono dotate di tv satellitare, aria condizionata e bagno indipendente. Se amate lo sport, potrete su prenotazione effettuare escursioni in mountain bike o a cavallo. Se invece volete rilassarvi al sole, potrete usufruire della piscina panoramica, magari sorseggiando un buon vino locale o leggendo un libro. La colazione è servita in un immenso salone con il salottino a volte, o in estate sotto la bellissima tettoia, per consentirvi di ammirare la splendida vista su San Gimignano e sul Chianti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.